È un convegno che nasce da un incontro con la signora Priore, che è una giovane donna, un'atleta, che è nata con il diabete e che sembrava non potesse fare niente e che invece ha sfidato proprio la malattia e oggi è diventata testimonial proprio di come si possa nascere con il diabete infantile, ma poter fare lo sport anche a un certo livello e che ha scritto anche un libro che sarà anche presentato nell'occasione. È un convegno che vuole essere proprio di far capire quanto sia importante la conoscenza in certe cose che possono poi dare a chi nasce con il diabete una vita assolutamente normale. Per l'occasione saranno presenti oltre ovviamente l'assessore alla sanità e allo sport, il legge Abruzzo Silvio Paolucci, avremo con noi il presidente del CONI Italo Canaletti, la dottoressa Montani, che è la dottoressa che... abbiamo scelto una donna in questo caso proprio perché la testimonia era una donna, quindi per parlarci del diabete, per parlarci delle cure, parlarci di quello che si può e si deve fare a vantaggio di queste persone che nascono magari con una malattia che comunque è stabilizzabile. Per cui si vive una vita praticamente normale, ci sarò poi io che coordinerò l'incontro e avremo con noi il coordinatore nazionale del partito, ma soprattutto l'onorevole Maurizio Lupi che è sportivo, per questo l'abbiamo voluto con noi, uno sportivo e uno che sta promuovendo diverse leggi a favore dello sport e anche di coloro che hanno difficoltà nel fare lo sport. E quindi l'invito è a tutti di partecipare, quindi venerdì 27 ottobre alle ore 11 presso la sala polifunzionale della provincia di Teramo per passare qualche tempo insieme e con la possibilità di intervenire e di porre domande a chiunque di coloro che saranno interrogati.